Ciao a tutti amici e noi Fede, insieme siamo LA BIN FEDE! Oggi faremo una slime challenge! Questi sono gli ingredienti per fare lo slime con la helmet dei mei contro le te, poi bicarbonato, mi raccomando un pezzichino, poi liquido per lenti e noi usaremo pure la colla trasparente. Iniziamo a versare un po' di colla trasparente. E adesso aggiungiamo mezzo barattolo di colla di gelata. E adesso procediamo con gli attivatori, prima il bicarbonato. Federico, un pochino di bicarbonato, un altro pochino, un pezzichino e anch'io. Ok, ne abbiamo messo un altro pochino. E adesso il liquido scoliamo e poi aggiungiamo il liquido per lenti. Mescoliamo bene, dobbiamo togliere tutti i glumi. E adesso aggiungiamo il liquido per lenti. Mescoliamo, ora mescoliamo di nuovo. Guardate amici, si è formato lo slime! Yeee! Yeee! Vero! Guardate amici, come si è formato! E se si è formato Federico? Sì! Mi sa che è arrivato il momento di prenderlo con... Le mani! Vai! E allora, altro liquido per lentine! Vai Fede! Sì! 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 Abbiamo fatto un acquazzù! Il mio... Guarda, mettiti un pochino di liquido per lenti sulle mani. Dai! Vai! Adesso dobbiamo lo slime! Che è creato! Sì! Sei creato! Lo uscite! Lo uscite! Lo uscite! Lo uscite! Aspetta, prima dobbiamo vedere se ci mettete nei commenti qual è stato lo slime più bello! Vediamo, questo è di un bellissimo colore! Qua ci vuole un altro po' di liquido per lentine! Aspetta, vedi! Vai! Oh! Invece è il mio perfetto! Meraviglioso! Vero! E' il risperato viola! Che sfettacolo! Mi piace tantissimo! Però questo del colore del mare... Sì! Quando il mare lì all'orizzonte diventa blu oltremare, vedi? Peccolo! Li uniamo! Ciao! Ciao! Guarda che fanno la puzzetta! ! No!! No!!! No!!! No! No! No ! No! No!